Presentato ufficialmente durante le 3 dello scorso anno, Destroy All Humans segna il ritorno di un franchise molto amato dal pubblico, che nel tempo è diventato un vero cult. Passato nelle mani di THQ Nordic, il titolo torna ora sugli scaffali con un remake che punta a riaccendere l'interesse della platea nei confronti delle sadiche ed eseleranti imprese degli invasori Furan. Pur dando prova ad uno sforzo produttivo importante, però la riedizione di Black Forest Games manca di correggere quelli che già al tempo erano i punti deboli di un prodotto sì divertente, ma caratterizzato da una varietà abbastanza limitata. Sul passante narrativo, nell'America degli anni 50 una flotta di dischi volanti assalta il pianeta Terra. Oltre a nutrire un profondo disprezzo per la civiltà terrestre e per la vita in generale, il protagonista di Destroy All Humans ha una missione essenziale per il futuro del suo popolo. Estrarre dal codice genetico degli umani antichi frammenti di DNA Furan, retaggio dei primi contatti tra le due specie. Si tratta, come intuibile, di un semplice pretesto narrativo, una scusa per dare il via ad una lunga sequenza di spassose atrocità, giustificate da una trama che tira in ballo la gamma completa dei cliché sull'America del boom economico. Tra battute intrise di satira e continue citazioni alla fantascienza dei B-movie, la scrittura di Destroy All Humans si dimostra ancora oggi brillante e spigliata, capace di sostenere egregiamente i toni di un'avventura leggera e senza troppe pretese. Il lavoro di revisione svolto da Black Forest Games sull'identità stilistica del titolo è stato dunque portato avanti nel pieno rispetto del materiale di base, optando per un'estetica cartoon perfettamente coerente con le caratteristiche della produzione. Fatta eccezione per il comparto grafico e per un generale svecchiamento del gameplay, l'offerta ludica di questo remake risulta praticamente identica a quella del capitolo originale. Esattamente come la sua controparte del 2005, la campagna di Destroy All Humans remake è suddivisa in 22 missioni indipendenti che portano i giocatori a visitare 6 diversi scenari, costruiti come piccoli open world che, in buona parte dei casi, possono essere esplorati liberamente a caccia di collezionabili o di pretesti per scatenare il caos. Sfruttando le capacità della razza aliena, saremo in grado di leggere e manipolare elementi degli umani, assumere le loro sembianze per muoverci indisturbati tra la folla e, ovviamente, causare scompeglio sia utilizzando l'arsenale del protagonista, sia la potenza di fuoco del suo disco volante. L'assetto degli incarichi ripropone fedelmente quello del gioco originale, con pochissime variazioni di rilievo. Tra sessioni di infiltrazione legate a dinamiche stealth piuttosto elementari, obiettivi da difendere e massacri indiscriminati, il design delle missioni appare decisamente datato. Il titolo di THQ Nordic è ancora in grado di offrire al pubblico alcuni momenti di puro divertimento, ma in termini strutturali parliamo di situazioni ludiche che già al tempo dell'uscita originale non apparivano certo brillanti. Sebbene ogni missione sia accompagnata da diversi obiettivi secondari tutti nuovi, le attività collaterali hanno un peso molto relativo. Il gameplay è infatti caratterizzato da una certa ripetitività di base, che si fa via via più marcata nel corso delle circa otto ore necessarie al completamento della campagna. Anche le sfide aggiuntive, accessibili tornando a visitare gli scenari sbloccati, non contribuiscono più di tanto a rinfrescare il profilo ludico del titolo, specialmente considerando che le quattro tipologie di attività previste, ossia Armageddon, Rapimento, Corsa e Devastazione, propongono differenze solo marginali passando da una location all'altra. Come già accennato, si tratta di debolezze che il gioco eredita dal suo diretto predecessore, e che probabilmente non scoraggeranno in alcun modo gli estimatori della saga. Tuttavia, dal momento che questo destroy all humans e un remake, era lecito aspettarsi un ammodernamento più profondo. Pa dalla mano, si tratta di una rotta produttiva che lascia con un po' di amaro in bocca, a maggior ragione se si considera la qualità degli interventi sul fronte tecnico. Se dal punto di vista strutturale il titolo mostra chiaramente il peso dei suoi anni, il team ha fatto un ottimo lavoro per rielaborare in chiave moderna sia le meccaniche di gioco, sia la qualità grafica. Tanto per cominciare, il sistema di movimento è stato totalmente rivisto e risulta ora più fluido, reattivo e flessibile, con inoltre l'aggiunta di un inedito dash che, se prolungato, consente all'alieno di muoversi per brevi tratti su una sorta di skate fluttuante. Anche il sistema di shooting con annesso lock-on rende più appaganti le stragi che compiremo. Non mancano modifiche all'armamentario, supportato da un sistema di progressione notevolmente e ampliato, che ora conta un totale di 66 upgrade contro i 18 della versione originale. Ci sono anche nuove abilità in dotazione al protagonista che ora può ipnotizzare un personaggio umano per costringerlo a combattere al suo fianco o manipolare a livello molecolare diversi elementi dello scenario per trasformarli in munizioni extra. La novità più significativa riguarda però la capacità di compiere diverse azioni nello stesso momento, in modo da raggiungere col minimo sforzo la massima efficienza letale. In questo modo, l'invasore può estrarre cervelli, usare la telecinesi e fare fuoco senza dover necessariamente stilare una lista di priorità, dando libero sfogo alla sua naturale propensione per la superviolenza. Come detto, l'indubbia qualità di queste migliorie avrebbe potuto sancire un passo avanti netto per la formula di Destroy All Humans, se solo il team avesse osato di più sul fronte del game design. Una mancanza che, fortunatamente, non riguarda in alcun modo il comparto grafico della produzione ricostruito da zero utilizzando l'Unreal Engine 4. A due generazioni dall'esordio del gioco, gli sviluppatori si sono dimostrati in grado di reinterpretare in maniera praticamente impeccabile l'estetica caricaturale della saga, tra modelli poligonali volutamente sproporzionati e note cromatiche che ricordano da vicino gli eccessi del Technicolor. Il nuovo motore mostra un sistema di illuminazione non particolarmente avanzato ma di buona fattura, valorizzato da una pregevole gestione dell'effettistica. Non stupisce che tra i punti di forza del pacchetto ci sia una distruttibilità ambientale praticamente senza limiti, che talvolta si traduce in un flusso costante di edifici ridotti in detriti e di veicoli scagliati in lontananza. Il tutto a fronte di un frame rate fissato a 30 fps generalmente solido, con solo qualche sporadico calo nelle situazioni più intense. Promosso senza riserve anche il comparto sonoro, rimastrezzato a puntino sia per quanto riguarda il doppiaggio che le tracce musicali. A 15 anni dall'uscita Destroy All Humans torna sugli scaffali con un remake che vive di alti e bassi. Da una parte abbiamo apprezzato il lavoro di revisione operato sul versante tecnico, mentre dall'altra non abbiamo potuto fare a meno di notare una eccessiva fedeltà alla struttura originale della campagna. In questo senso i problemi del remake sono in buona parte quelli del capitolo originale, che riguardano principalmente un design delle missioni ormai datato. La varietà degli incarichi risulta quindi molto limitata e questo apre la strada ad una certa ripetitività di fondo. Ciò nonostante, il remake di Destroy All Humans resta un titolo godibile e divertente, capace di offrire 8 ore di svago a cuor leggero.